Appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Oggi incontriamo un educatore, scrittore, conferenziere nel campo dei nuovi stili di vita, un laico missionario nella custodia del creato che ha scritto un libro edito dalle Paoline intitolato Cambiamenti a chilometro zero, l'opzione del quotidiano per nuovi stili di vita. Lui è Adriano Sella che ringraziamo per essere in collegamento Skype con noi. Ciao Adriano, benvenuto. Grazie, grazie a voi, a tutti e a tutte. Paolina Edizioni, la prefazione del Cardinale Matteo Zuppi, un libro molto interessante, soprattutto perché dà tanti consigli su come cercare nel nostro piccolo di creare un mondo migliore, soprattutto per chi verrà dopo di noi. Quindi ogni giorno, ogni gesto quotidiano è un'azione che possiamo compiere per custodire il nostro creato. Quindi questo è un po' il filo conduttore del libro. Certamente, infatti l'obiettivo proprio di questo libro è di sfogliare il nostro quotidiano e percepire che proprio nella vita quotidiana possiamo fare tantissime cose, da quando ci alziamo fino alla sera quando andiamo a letto. Sono scelte quotidiane, possibili a tutti, è quel cambiamento che noi chiamiamo anche a chilometro zero e poi è che parte dal basso, cioè da ciascuno di noi. Il libro proprio ha questa intenzione di aiutarci proprio a guardare il nostro quotidiano e a percepire quante scelte prima di tutto noi facciamo e queste scelte molte volte non sono più sostenibili, hanno un forte impatto ambientale, dannoso, ma non solamente ambientale, anche umano e dobbiamo allora impegnarci a cambiare queste scelte, questi comportamenti. Ecco perché parliamo di nuovi stili di vita, cioè veramente mettere in atto nuove prassi oppure anche le buone pratiche che chiamiamo oggi. Il tentativo è proprio di sfogliare il quotidiano e di percepire per esempio già la prima azione che facciamo da quando ci alziamo e poi fino a tutto il quotidiano, fino a quando rientriamo in casa e andiamo a dormire. Ecco, non ci viene chiesto di rivoluzionare da un giorno all'altro il nostro quotidiano, però cominciando con piccole azioni, con un cambiamento come diceva giustamente lei che arriva dal basso possiamo riuscirci. Qual è l'azione meno sostenibile che continuiamo oggi a compiere? Qual è quella più sostenibile che possiamo cominciare a compiere? Certamente riprendo quello che hai detto molto bene. Non si tratta di cambiare il quotidiano dalla sera al mattino. Infatti anche nella prima parte del libro io sottolineo che il cambiamento avviene mediante un processo, non un evento. E il cambiamento avviene mediante dei ritmi di vita che sono quelli di madre terra. Non pensiamo ai ritmi che utilizziamo con questa tecnologia che stiamo utilizzando anche adesso, che clicchiamo e vediamo subito la risposta, anzi la vogliamo subito. Ecco, nella vita, nel cambiamento della nostra vita, i ritmi sono quelli di madre terra. Bisogna seminare e poi si raccoglie anche dopo molto tempo. E dove siamo impegnati proprio a irrigare, a curare, a far crescere tutto quel lavoro importantissimo di cambiamento. Quali sono allora i comportamenti, diciamo, che facciamo fatica proprio a cambiare? Beh, certamente diciamo è quello della mobilità che noi chiamiamo sostenibile. Cioè quando usciamo di casa abbiamo bisogno di muoverci e purtroppo in questi anni abbiamo utilizzato, anzi ci hanno messo troppo dentro quell'automobile che qualcuno chiama anche una scatola di ferro che si muove. Ecco, l'automobile. E facciamo tante cose con l'automobile. Anzi, molte volte proprio la utilizziamo troppo. Basti pensare a quanti viaggi a volte facciamo perché ci siamo dimenticati di comprare delle cose che avevamo bisogno. A causa del fatto che non facciamo più la lista della spesa. E allora non facendo la lista della spesa ci dimentichiamo e poi riprendiamo l'automobile, inquiniamo ancora, perdiamo tempo e in più anche danneggiamo il nostro portafoglio perché ci vuole combustibile. Ecco, qui allora bisogna veramente cominciare a mettere in atto quella mobilità sostenibile. Per esempio cominciare a camminare con i nostri piedi. Noi abbiamo fatto anche una campagna chiamata Metti Motto i Piedi. È il primo veicolo che Dio ci ha dato. Il primo veicolo non è né l'automobile né la moto ma sono i nostri piedi. E dobbiamo cominciare a rivalorizzarli. Come l'esperienza del piedibus che è questo autobus umano organizzati per portare a scuola per esempio i bambini, i ragazzi senza liberando la strada di tante automobili perché ogni bambino viene portato a scuola dai propri genitori. Quindi muovendo un sacco di automobili. Poi ci sono tante altre scelte che possiamo fare dai mezzi pubblici alla bicicletta. E se poi utilizziamo l'automobile è chiaro non dobbiamo demonizzarla l'automobile ma dobbiamo utilizzarla in maniera intelligente. Oggi ci sono delle forme intelligenti dell'uso dell'automobile. Per esempio il car sharing o il car puli, riempire l'automobile. C'è il bla bla car che è molto utilizzato dai giovani, che sarebbe l'autostop organizzato. E anche per esempio quello che dicevo poc'anzi. Quando ci muoviamo facciamo la lista delle cose da fare, la lista della spesa, la lista dei servizi. Io per esempio vivo sui colli di Vicenza, quando vado a Vicenza faccio la lista dei servizi che devo fare. In modo che in quel viaggio non faccio solo la spesa, faccio altri servizi che devo fare. Andare alla posta e via dicendo. In modo che quel viaggio sia veramente valorizzato bene. La cosa che forse riusciamo meglio a fare oggi, mossi anche dalla necessità, soprattutto della salute, che ci porta a curare di più il cibo. Tante persone vedo che cambiano, soprattutto quando arriva il problema della salute, cioè la malattia. Allora abbiamo iniziato a curare di più il cibo. Adesso anche durante il lockdown c'è stata veramente un'esperienza molto positiva da diverse persone che hanno riscoperto l'autoproduzione, farsi il cibo in casa, farsi il pane in casa, anche con la famiglia, con i propri bambini, mettere le mani in pasta, poi sentire il profumo del pane. E così per esempio l'esperienza di diverse persone che mi hanno raccontato, che hanno detto è stata un'esperienza così bella che anche quando passa questa pandemia non torneremo come prima. Continueremo a farci il pane in casa, a farci l'autoproduzione e quindi un cibo proprio più buono, più sano, che abbiamo bisogno davvero. È proprio così. È un libro, come dicevo in apertura, molto interessante, Adriano, perché ci sono proprio dei consigli, dei decaloghi, delle pratiche giornaliere da attuare. Quelle che mi piacciono moltissimo sono le pratiche giornaliere per le buone relazioni interpersonali, perché lei non parla solo di come cercare di non consumare l'acqua, oppure come scegliere i prodotti in modo etico, la mobilità e tante altre istruzioni dell'uso, ma anche l'importanza delle relazioni interpersonali. Un consiglio su tutti è quello di valorizzare il saluto già al primo mattino e poi durante tutta la giornata, perché il saluto è il ponte della relazione umana, che ci mette in contatto con una persona e non più con un individuo. Quindi anche questo fa parte della salvaguardia del nostro meraviglioso creato. È proprio così. Sì, vuole aggiungere qualcosa? Sì, sì, proprio su questo delle relazioni umane ho appena pubblicato una mini guida, che ve la mostro, che è questa qui. La mini guida delle relazioni umane, sociali, cosmiche ed ecologiche. È proprio tutto sull'importanza di ricoperare le relazioni umane, le relazioni sociali, ecologiche, cosmiche. E qui trovate veramente anche tante proposte concrete, a partire dal saluto e tante altre iniziative che possiamo fare nel quotidiano, perché le relazioni, e questo è anche stato una cosa interessante del Covid, di questa pandemia, che ci ha aiutato a riscoprire l'importanza delle relazioni che le avevamo messe un po' in secondo ordine. Mentre la pandemia ci ha fatto capire che sono essenziali, non possiamo fare a meno delle relazioni umane e sociali. E quindi dobbiamo iniziare veramente a curarle, a custodirle, a valorizzarle. Allora, ricordo il titolo del libro che stiamo presentando oggi, Cambiamenti a chilometro zero, l'opzione del quotidiano per nuovi stili di vita, edizioni paoline. Mentre quello che ci ha mostrato, Adriano, è edito da? Questo è edito, è una tipografia qui a chilometro zero di Vicenza, e quindi praticamente si chiama ESCA e praticamente la diffondiamo a noi, la diffondo io, quindi chi vuole può mandarmi un e-mail, gliela mando via posta, c'è la possibilità di mandarla, esatto, sì, sì. Benissimo, poi comunque digitando su un qualsiasi motore di ricerca, Adriano Sella, troverete appunto Adriano con il suo curriculum, quello che fa e i modi per contattarlo. Grazie di cuore per questi consigli, grazie di cuore soprattutto per quello che fa e che continuerà a fare per la salvaguardia e la custodia del nostro creato. E grazie al suo libro, scoperto che nell'enciclica del Papa, laudato sì, per almeno 35 volte, il Papa fa appello a stili di vita alternativi. Straordinario questo. Esatto, esatto, sì, sì. E se lo dice il Papa... Esatto, vi lascio con un slogan che sempre utilizzo, ecco, meno oggetti e più relazioni per vivere meglio. Bene, ne faremo tesoro, faremo tesoro delle sue parole. Grazie ancora per essere stato con noi e perché no, alla prossima pubblicazione, al prossimo libro. Grazie a voi. Grazie a voi.